Ecco un altro autore, sempre fiorentino, un altro autore del rinascimento più maturo è Niccolò Machiavelli, Niccolò Machiavelli lo avete nelle dispense di quarta a pagina 17. Vi dicevo prima che dopo la morte di Lorenzo il Magnifico nel 1492 la Signoria dei Medici ha termine per un periodo a Firenze, i medici sono cacciati, c'è un periodo in cui si afferma un frate estremista, Girolamo Savonarola, e poi una repubblica detta seconda repubblica fiorentina perché Firenze diventa di nuovo un comune come prima dei medici, prima di Lorenzo. E segretario della cancelleria della seconda repubblica fiorentina, quindi una carica molto importante, è Niccolò Machiavelli appunto, che mantiene questa carica di alto funzionario politico della città fino al ritorno dei medici a Firenze, Lorenzo, nipote di Lorenzo il Magnifico, tornerà a Firenze, instaurerà di nuovo una signoria, Machiavelli verrà mandato in esilio, non lontano da Firenze ma comunque lontano dalla vita politica, e quindi qui inizierà a dedicarsi alla lettura e soprattutto alla scrittura. Machiavelli è un uomo politico di grande esperienza, in un mondo pieno di intrighi, pieno di compromessi, anche di violenze, e quindi quando scrive le sue opere non è un teorico ma è uno che ha vissuto la realtà del suo tempo, e alla realtà del suo tempo, nelle sue opere si rifà, su questa si basa. L'opera più importante che noi vediamo brevemente è Il Principe, un trattato dedicato a Lorenzo de' Medici, il junior, diciamo così, ritornato a Firenze, un po' anche per tornare nelle sue grazie e poter ritornare in città dall'esilio, un trattato che si ispira a un grande condottiero del tempo, Cesare Borgia, detto Il Valentino, perché aveva ottenuto il titolo di Duca di Valentinoa, Egli era un personaggio scaltro e molto deciso, anche che non si faceva scrupolo di scendere a compromessi, e quindi Machiavelli lo prende spesso a modello del proprio ideale di principe, di signore, e vuole presentare in quest'opera quelle che sono le azioni più utili, non moralmente per forza corrette, ma più utili per ottenere il potere per un principe e per mantenerlo. Il sogno, la speranza sottintesa a quest'opera è anche quella che possa sorgere un signore capace di unificare almeno buona parte dell'Italia centrale del tempo per far cessare le continue guerre in cui era ricaduta la penisola dopo la morte del magnifico. Quindi c'è anche quest'idea di Italia, un'idea molto antica che aveva già Dante, di Italia come entità culturale, unità. Il trattato è un trattato in volgare, fiorentino, di stampo elevato, suddiviso in 26 capitoli, intitolati con titoletti latini, e gli argomenti sono i seguenti. Nei primi capitoli parla dei tipi di principato, quindi tipi di stato, se sono stati conquistati da poco, se sono stati ereditati, che tipo di governo hanno, quindi una sorta di parte più teorica. Poi ci parla delle milizie e qui ci dice che le milizie cittadine, cioè avere un esercito proprio, cittadine o comunque del signore, quindi le milizie proprie, sono sicuramente migliori delle milizie mercenarie, perché i militari mercenari sono fedeli chiaramente a chi li paga di più, e quindi non hanno neanche quella motivazione che possono avere i cittadini di uno stato a combattere per la propria patria, diciamo così, per la propria anche libertà. Poi passa alla parte centrale a parlare del comportamento del principe, e qui ci dice cose molto interessanti, alcune leggeremo nei passi seguenti. Il principe in ogni caso deve fare tutto quello che è necessario per il bene dello stato, cioè il fine ultimo del buon principe, del principe capace, è mantenere lo stato, mantenerlo in pace per far stare al meglio i propri sudditi cittadini. E se è necessario, per fare questo, deve anche ricorrere a mezzi non leciti moralmente, quindi a mezzi immorali, come può essere l'omicidio di qualche nemico politico, di qualcuno che congiura contro il principe stesso, quindi contro la stabilità dello stato, oppure il tradimento, tradimento di alleanze che non sono ad esempio più convenienti. Queste cose il principe non deve farle, se può non farle, ma se è necessario per il bene dello stato, allora sì che deve, quindi deve sapersi comportare secondo quello che le circostanze esterne richiedono, non deve essere abile a mutare, a cambiare, secondo la necessità. Ecco, questo concetto centrale del principe è spesso stato sintetizzato con l'espressione il fine giustifica i mezzi, ecco perché soprattutto nelle lingue anglosassoni utilizzare il termine macchiavellico ha una connotazione negativa. Tuttavia ricordate sempre che il fine non è un fine qualunque, ad esempio la ricchezza privata del principe o di qualche altro cittadino, il fine ultimo deve essere il bene dello stato, quindi un fine superiore. E al principe non è lecito utilizzare la violenza, l'ingiustizia, la frode in qualunque circostanza, ma solo se non ha altra scelta, cioè solo se rischia di essere eliminato, rovesciato e quindi di conseguenza di far poi precipitare nel disordine lo stato. Ecco, dopo questa parte centrale c'è un capitolo in cui Machiavelli ci parla dei principi italiani e del resto già nei capitoli precedenti ha corroborato le sue tesi con moltissimi esempi tratti dall'esperienza del presente nonché del passato. Quindi è importante la realtà effettiva, l'esperienza nel dare i consigli, l'esperienza che Machiavelli ha del mondo. I consigli non sono per forza buoni, ma sono utili perché si basano su quella che è la conoscenza dell'anima umano e del mondo. Poi c'è un capitolo di cui leggeremo un passo sulla virtù e fortuna. Qua virtù indica l'impegno, l'agire appunto dell'uomo nel mondo e la fortuna indica la fortuna buona o cattiva, cioè la sorte. Per cui qua Machiavelli ci dice che non dobbiamo lasciare fare tutto alla sorte, ma è importante impegnarsi perché secondo lui il 50% del nostro successo o insuccesso è da attribuire proprio al nostro impegno, l'altro 50% a cause esterne, quindi al destino, chiamiamolo così, alla sorte. Però comunque una buona parte di destino, diciamo così, l'uomo ce l'ha a suo avviso nelle proprie mani e quindi è importante che agisca e che si dia da fare nel mondo. Quindi qua ribadiamo quello che è il concetto anche della nuova visione dell'uomo nel rinascimento, un uomo che può cambiare le cose, che può agire nel mondo, che può fare, non è tutto nelle mani di Dio. E infine, un'esortazione finale al dedicatario dell'opera Lorenzo De Medici. Bene, per quanto riguarda i testi, per essere più sintetica, mi limiterò a leggere le parti fondamentali, che ritengo fondamentali, tra i passi antologizzati nelle dispense. Allora, pagina 18, nelle dispense di quarta, abbiamo il capitolo 18 del principe, cioè una parte, in cui ci parla di come i principi debbano mantenere la parola data, in che modo. E qui ci dice Ecco, quindi ci sta dicendo che è cosa buona che un principe, un signore, sia leale, sia fedele, mantenga la propria parola, non tradisca gli alleati, cosa nota a tutti, evidente. Tuttavia, non di manco, tuttavia, queste espressioni sono frequentissime nella prosa di Machiavelli. Lui ci dice come dovrebbero essere le cose, tuttavia, ma non di manco. E un'altra espressione fondamentale è per esperienza, cioè lui ci dice un conto sono i principi teorici, i morali, un conto sono i fatti. Quindi per esperienza io ho visto nei nostri tempi che quei principi che sono stati poco leali, poco fedeli, che hanno fatto i propri interessi al di là della morale e della lealtà, hanno ottenuto molti più risultati, molto più successo di quelli che sono stati leali. Quindi questo è, in sostanza, il senso del passo. E poco più avanti dice Ecco, quindi qua ci dice che ci sono due modi di lottare e di agire nel mondo, uno secondo le leggi e l'altro usando la forza brutta, la violenza. Ora, usare le leggi e comportarsi civilmente è proprio dell'uomo, essere violenti e brutali è proprio delle bestie. Ma, ecco di nuovo l'avversativo, siccome comportarsi bene, diciamo così, molte volte non è sufficiente, non dà risultati, non basta, purtroppo a volte bisogna utilizzare il secondo, quindi la forza. Per cui un principe deve mutare natura, mutare comportamento secondo le circostanze. Se tutto va bene, deve comportarsi bene, diciamo così, ma se è necessario deve sapere usare anche il lato bestiale, il lato bestiale che è insito nella natura umana. E qui ci fa l'esempio dei centauri, ad esempio il centauro Chirone, grande maestro di molti principi, tra cui Achille. Centauro è una creatura mitologica, mezza uomo e mezza cavallo, quindi mezza uomo e mezza bestia, mezza animale. E poi Machiavelli ci dice ancora, sendo dunque uno principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe e il lione, perché il lione non si difende dai lacci, la golpe non si difende dai lupi. Ecco, quindi qua ci sta dicendo che quando il principe deve usare il proprio lato bestiale, deve prendere ispirazione da due animali in particolare. Uno è la volpe, che indica l'astuzia, la furbizia, il raggiro, l'intelligenza, l'intrigo politico, e l'altro è il leone, che indica la forza, quindi la forza militare, la guerra o anche la violenza, l'assassinio eventuale di qualche nemico politico. E per andare al nocciolo del discorso ci dice, non può pertanto un signore prudente, ne debbe, osservare la fede, quando tale osservanza li torni contro, e che sono spente le cagioni che la fecero promettere. Ecco, quindi quando essere leale non è conveniente, un signore capace, prudente, non deve allora essere leale. E ci dice questo, è importante questo, se gli uomini fossino tutti buoni, questo progetto non sarebbe buono, ma perché sono tristi, e non lo osserverebbero a te, tu e zia, ma non l'hai ad osservare a loro. O questo è fondamentale, lui ci dice, questo insegnamento non sarebbe buono, se gli uomini fossero tutti buoni, ma non sono tutti buoni, siccome non lo sono, e sono pronti a tradire te, tanto vale che tu, se necessario, solo se necessario, tradisca loro.